Musica Una buonissima serata come sempre, ben ritrovati a tutti voi, grazie per essere puntuali alle 19 qui con me, naturalmente siamo ad Angoli e naturalmente vi ricordo ancora una volta la nostra mail angolichiocciola espansionetv.it che continua a restare a vostra disposizione anche in questo momento così particolare. Prima di introdurre l'ospite che questa sera chiacchiererà qui con noi, voglio farvi un appello, un appello importante. La Fondazione Provinciale della Comunità Comasca ha aperto un'importante campagna di raccolta fondi, ovviamente per l'emergenza coronavirus, con la finalità appunto di dare un aiuto. E' un segnale molto importante. Parte con uno slogan, dobbiamo restare in casa ma non basta. A tre settimane di distanza dal lancio della prima campagna di raccolta fondi per l'emergenza coronavirus, la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca è lieta di informare la cittadinanza dell'importante riscontro sino ad ora ricevuto. Considerando tutti e cinque i fondi attivati in seno alla Fondazione Comasca, la somma ad oggi raggiunta ha superato i 3 milioni di euro. Una cifra che va al di là delle più rosee aspettative, ma che a testimonianza della drammaticità del momento è ancora inadeguata a soddisfare tutti i bisogni espressi dagli ospedali del nostro territorio. Al momento, grazie a queste donazioni, la Fondazione ha già potuto erogare agli ospedali Sant'Anna, Valduce e Fatebene Fratelli la somma complessiva di circa 2 milioni di euro. Con queste risorse gli ospedali si stanno dotando di attrezzature di vitale importanza, dispositivi di protezione individuale, ecografi, massaggiatori cardiaci, sistemi di intubazione, sistemi di monitoraggio, ventilatori polmonari, pompe siringa, elettrocardiografi, letti per terapia intensiva, un'autoambulanza e altri strumenti assolutamente necessari. Da sottolineare anche il contributo che vari protagonisti della scena sociale, sportiva e culturale Comasca hanno voluto esprimere attraverso l'invio di videomessaggi, dove lo slogan è quello che abbiamo lanciato anche noi. Dobbiamo restare a casa, ma non basta. Ed è stato ciascuno di loro ad interpretarlo sulla base del proprio vissuto. Tra i tanti ricordiamo lo showman Francesco Facchinetti, il calciatore del Como Dario Toninelli, la Gloria Canturina Charlie Recalcati, la storica campionessa della comense Viviana Ballabio e gli affermati musicisti Cristian Leotta e Davide Alogna. Come detto, lo sforzo di solitarietà non può e non deve fermarsi. Andando a consultare il sito della fondazione potrete conoscere le modalità per effettuare una donazione con tutti i dettagli possibili, via bonifico oppure via online. Anche da parte nostra sposiamo ovviamente questo messaggio e mi raccomando, dobbiamo restare a casa, ma non basta, possiamo fare di più. Bene, e a questo punto andiamo avanti, andiamo invece dal nostro ospite che spero sia già collegato con noi, Simone Tommasini. Eccoci, ciao Simo, guarda quanto mi spiace non abbracciarti, noi lo facciamo sempre quando vieni qui a trovarmi, quando ci incontriamo perché siamo amici. Ma questa sera c'è una storia bellissima che dobbiamo raccontare, lo facciamo quindi subito via Skype così perché è davvero molto importante. Innanzitutto come stai? Molto bene Dori, ciao a tutti gli ascoltatori di Espansione. Sto bene, sono a casa mia, quindi stai bene. Fortunatamente sono a casa mia perché insomma non è stato così. Infatti perché c'è tutto un precedente da raccontare, tra l'altro ci stanno già arrivando anche messaggi e via dicendo tra poco te li leggo, ma ricordo anche che ovviamente le nostre linee sono a vostra disposizione, quindi potete chiamare per parlare con Simone, basta comporre lo 031-3300-655 oppure inviare un messaggio WhatsApp al 335-708-4396. Allora Simone partiamo dall'inizio perché tu qualche tempo fa hai disertato il mio invito ad angoli di persona perché non avevi tempo, perché stavi per partire per un tour molto importante. Esatto, guarda, proprio oggi è un mese dalla mia partenza per l'Argentina, io sono partito il 3 marzo e 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ho suonato, il 12 hanno chiuso tutto e io il 14 molto velocemente anche ti dirò. Devo anche ringraziare il consolato italiano in Argentina che mi ha permesso, ci ha permesso a me e a Rino di ritornare in fretta e furia anche perché il presidente dell'Argentina stava chiudendo tutti gli aeroporti, tutti i mezzi di comunicazione con gli altri stati. Quindi rischiavi di rimanere là e questo sarebbe stato sicuramente più problematico. Simone sentiamo, c'è già una telefonata, buonasera, con chi parlo? Sono Patrizia di Como. Buonasera, benvenuta. Ciao. Ciao Patrizia. Vorrei salutare Simone, sì, ciao Simo. Ciao, ciao Stella, ciao, stai bene? Ti passo, ti sto bene, vuoi, tu è bene? Sì, direi di sì, direi che va. Comunque siamo sempre in diretta con te, ti vediamo. Ah, su Facebook dici, su Instagram, bene, bene, questo mi fa piacere. Sì, perché sai Dori, io faccio tante... Lo so, lo so, ti ho visto. Sto facendo un po' di casino. Lo so. Io non riesco a stare fermo, ho capito? Allora devo fare un po' di casino. Ti passo Michael. Ah, Michael. C'è qualcun altro, c'è Michael. Michael, ci sei? È mio figlio. Bene. Michael. È Michael. Ciao, ciao. Ciao piccolino, come stai? Bene. Bene, stai vicino alla mamma, eh, mi raccomando. Ah? Stai vicino alla mamma, dico, abbracciala forte, che ha bisogno. Mamma, io ti vedo sulla tele. Ah, mi vedi sulla tele, va bene. Certo, certo. Quindi davvero, insomma, sono tantissime le persone che ti stanno seguendo, io li saluto, mamma e bimbo, grazie per essere intervenuti. Tra l'altro, tra l'altro, volevo ringraziare anche, cioè, in questo momento sopra, in casa di mia sorella, c'è Charlotte e Alessia che mi stanno guardando, la mia figlia e la mia nipotina, quindi ciao. E salutiamo, ciao, ciao, ciao. Dopo, dopo, arrivo dopo. Simone, ma ritorniamo al racconto che poco fa avevi iniziato, perché ovviamente tu sei partito con un grandissimo entusiasmo, ci siamo sentiti comunque telefonicamente poco prima della tua partenza, per te davvero era, ed è stata una cosa bellissima. Quando eri là, che percezione, quali notizie ti arrivavano dall'Italia? Eh, guarda, voi state mandando queste immagini e come puoi vedere lì era tutto, tutto, tutto aperto, tutto diverso, tutto incredibile. Tra l'altro, questo è il primo concerto a Garcia Bar, c'erano un migliaio di persone, veramente, io sono rimasto basito da quanta gente conosce le mie canzoni lì in italiano, a un certo punto io ho anche detto a chi aveva organizzato le mie serate, mi ero girato e avevo detto, scusa, posso cantare una canzone in spagnolo, giustamente? No, 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 loro vogliono che canti solo in italiano e sapevano, a me ne ha dito tutte le mie canzoni. Sono entrato così, con la bandiera argentina, questa è proprio la prima serata, sono entrato, questa è un'altra serata incredibile che ho fatto, ma guarda, una marea di gente, poi tutti vicino all'Italia e tutte le volte che io nominavo l'Italia partiva il coro. C'è un grandissimo amore quindi da parte loro e questo ci piace. Simone, c'è qualcuno in linea con noi, buonasera, con chi parlo? Buonasera, buonasera, con Donatella da Como. Ciao Donatella. Allora, devi ascoltare dal telefono, non dalla televisione, quindi abbassa il volume della televisione e utilizza soltanto il telefono per chiacchierare con Simone. Ciao, ciao, ciao buonasera a tutti. Ciao Donatella, ciao. Prego, vuoi dire qualcosa a Simone? Sì. Ti ascoltiamo, puoi parlare. Quando tutto finirà, apriremo quella porta. E va così, bene. Lasceremo la città. Grazie, grazie mille. Ciao Simone. Ciao Donatella, grazie. Simone, che dire, qui chiameranno e si metteranno a cantare la tua canzone, insomma, ancora prima che si riesca ad ascoltarla qui in diretta. Allora, io direi di fare così Simone se sei d'accordo. No, non possiamo farlo, non devi essere d'accordo perché c'è già qualcun altro che ha priorità. Buonasera, con chi parlo? Niente. È caduta. Allora, io direi, se ti va, ascoltiamo il brano, così ancora di più lo facciamo nostro e ancora di più entriamo nella tua storia. Se la regia è pronta, noi siamo pronti. Grazie. Quando tutto finirà E apriremo quella porta Lasceremo la città Ora basta far la scorta Partiremo per il mare Due valigie ed una borsa Senza un posto dove andare Andiamo via da questa morsa Studia, rifletti, impara a contare Leggi, rileggi, comincia a suonare Mi han detto che la vita è troppo corta Per non essere rincorsa E quando tutto finirà Torneremo a far l'amore E anche se non starei bene Non sei la figlia del dottore A Barabaci ci cocò Tre civette sul comò Che volevano scappare Si volevano assembrare Anche con il raffreddore E quando tutto finirà Torneremo a far l'amore E anche se non starai bene Sarò io il tuo dottore Tutti insieme sul balcone Canteremo un po' stonati E alla fine partiremo ancora Quando tutto finirà Quando tutto finirà E quando tutto finirà Torneremo a far l'amore Ad abbracciarci così forte Senza più paura Adesso stiamo chiusi in casa Senza fare più sciocchezze Sembra che siamo lontani Ma in realtà siamo più vicini Se ci facciamo forza io e te Passa prima questo tempo Ed un bacio ti darò Quando tutto finirà E certo e quando tutto finirà Ci mandiamo mille baci E intanto invece ti arrivano I saluti di Alice e Alessandro Che ti vogliono tanto bene Sono di Bregnano Ogni tanto vi incontrate A mangiare la pizza Dicono Ti volevano dire Che la canzone è bellissima Che sei un grande uomo E un grande artista Mandano un bacio a te A tutta la tua famiglia Davvero ti vogliono bene E quindi ti scrivono questa cosa Ma c'è già qualcun altro Che vuol sapere Se tornerà in Argentina Quando tutto finirà Mi piacerebbe Dico la verità Perché a me non piace Lasciare le cose a metà Ho proprio lasciato Il tour a metà Avevo 13 date E ne abbiamo fatte solo 6 E davvero L'ho dovuto interrompere E anche velocemente Come ti spiegavo Perché il presidente argentino Ha proprio fatto una dichiarazione Su modello italiano Chiudiamo tutto È stato proprio Il nostro modo Di come dire Prevenire Il nostro modo Di reagire alla situazione È vero Che è stato comunque Preso d'esempio Anche all'estero Lo confermi Sì 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 Assolutamente E appunto Quando io sono rientrato Trovarmi dal Capito Dalla festa Dall'affetto Di tutta quella gente Trovarmi tutto chiuso È venuto A recuperarci un mio amico Andrea È venuto a recuperarci All'aeroporto E io e Rino Eravamo completamente Spiazzati Cioè capivo Sentivo Avvertivo Quando chiamavo a casa Ma non era così Dori Io non pensavo così Capito Quando poi sono arrivato a casa Da lì non mi sono più mosso Io sono sempre in questa casa Sono qua Rincanato qui Beh però Questa cosa ha portato A un risultato meraviglioso Ripartiamo da qui Tra pochissimo C'è un tassativo breve breve Rimaneteli perché Torniamo Io ma soprattutto Simone A tra poco Di nuovo insieme Di nuovo vi ricordo Che le nostre linee telefoniche Sono totalmente A vostra disposizione Basta comporre Lo 031 3300 655 Oppure inviare Un messaggio Whatsapp Al 335 708 4396 Ovviamente È rimasto Con noi Il nostro Simone Tommasini Non sei uscito Nel frattempo Sei a guarda Suona già Il telefono È incredibile Poi un sacco di messaggi Poi te li leggo Buonasera Con chi parlo? Buonasera Pronto? Buonasera Deve ascoltare Dal telefono E non dalla televisione Pronto? Pronto Benvenuta Con chi parlo? Ciao Sono Alice Chiamo da Pregnano Ah ciao Ciao Volevo parlare con Simo Eccomi sono qua Ti sente? Ciao Simo Ciao Forse mi conosci Perché Mi ho morato Veniva già Pregnano A mangiare Allora ci conosciamo Sono venuta A qualche concerto Tuo Ah Ok Forse mi hai visto Ti sei anche avvicinato Al tavolo Ah può essere Può essere Io ti abbraccio Ti ringrazio Grazie dell'affetto Eh Poi ho fatto i complimenti Per le tue canzoni Sì E soprattutto Quando facevi il prossimo concerto E questo è un altro aspetto Questo è un problemone Nel senso che Non sappiamo ancora Quando Appunto Quando tutto finirà Non per citare la canzone Però È È difficile No Non abbiamo Non abbiamo Ancora I parametri Di Di quando Non tanto Tutto finirà Ma quando Si ripotrà Cantare Assembrare Tanta gente Insomma Perché il problema Vero è La Stare vicini No Stare insieme Quindi il concerto Probabilmente È una di quelle cose Che aprirà Piano piano Insomma Quindi io Cercherò Dori Io Mi sto organizzando Perché vorrei fare Un concerto Online Adesso sto cercando Di capire Come farlo E vorrei raccogliere Un po' di soldi Anch'io Da poter Insomma In qualche modo Dare Quindi insomma Ci sto ragionando Poi appena Appena sono pronto Ve ne parlerò Io sono qui Per comunicarlo a tutti E quindi questo concerto Poi lo facciamo insieme Perché io Già di mio Faccio Personalmente Senza dovermi mettere Delle medaglie E delle cose Però Vedo Vedo un'emergenza Troppo forte Cioè una cosa Troppo È enorme Certo È un'emergenza Che parte Della situazione sanitaria Che va all'economia E va Va anche Al disagio psicologico Tante persone Soffrono In questo momento Quindi ci sta tutto E qua siamo tutti uguali Capito Cioè qui non c'è Il bello Il bravo Quello che c'ha i soldi Quello che non ce l'ha Qui siamo tutti uguali Ed è questa la cosa Che probabilmente Spaventa anche la gente E fa paura Ecco perché io ho cercato Con questa canzone Di portare un po' Di speranza Un po' Di Un po' Di allegria Anche un po' Di spensieratezza Un po' Di malinconia Anche perché Alla fine Io poi Alla fine della canzone Piango anche C'è un momento Proprio che piango Quando dico Adesso stiamo tutti in casa Perché sembra una cosa assurda Che tutti devono stare Nella propria casa Però è anche un modo Anche per proteggersi E poi io Tu ormai mi conosci Da tantissimi anni E tu sai che io Ho fatto un reality E quindi adesso Siamo tutti dentro Nel reality È vero Siamo tutti a casa Quindi Così proviamo anche Questa emozione Ma si tratta di una situazione Molto seria Quindi accidenti Davvero Ma Simone Voglio tornare All'idea All'idea di questa canzone Che Anzi Facciamo ancora Un passo indietro Perché quando Ci sono forse anche Delle immagini Di te Che arrivi a Malpensa E io ti ho visto In un post Che hai fatto esattamente In quei minuti Dove tu cantavi Il nostro inno Sì Io in Italia Perché ero arrivato Mi sembrava Erano 30 Ho fatto 30 ore di viaggio Ragazzi Ma non perché voglio Cioè non mi voglio Mettere delle medaglie Però fidatevi Che fare 30 ore di viaggio Con Il punto di domanda E tra l'altro Quando sono rientrato io La zona L'unica zona Veramente colpita In modo disastroso Era proprio la Lombardia Certo La nostra zona Il nostro mondo Poi arrivavano notizie Da Como Dagli ospedali di Como Che erano strapieni Peggio ancora Peggio ancora quelli di Bergamo E di Brescia Perché lì sai bene Che la situazione È stata drammatica Ancora di più Certamente Lo è tuttora Ma la cosa Ma la cosa Che La cosa che Io avevo Tanto 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 timore Era il fatto Di Dover fare Questo viaggio E non sapere Che cosa Stavo affrontando Perché Immaginati che Un viaggio del genere In un posto Dove Dove comunque C'era pochissimo Pochissimi casi Di coronavirus Però io Ho attraversato Degli aeroporti Ho attraversato Delle situazioni Anche magari Non facilissime Allora io Per evitare Ho fatto 15 giorni Proprio lontano Da tutto e da tutti Quasi anche da mia figlia Cioè mi sono proprio Tenuto Alla Alla Distanza Di sicurezza Io dico Infatti Ho iniziato a darle Qualche abbraccio Qualche bacio Oggi Perché sono passati I famosi 18 19 giorni Ho fatto proprio Scemare ancora di più Altro che 15 14 Sei stato molto prudente Molto affettuoso Molto Corretto ovviamente Perché è giusto così Mia figlia Quando siamo rientrati Da Malpensa Quando l'ho vista E Mi vedeva Che avevo la mascherina Avevo i guanti Ecco perché dico Guardate le facce Dei bambini Chi ha la fortuna Di avere a casa Dei bambini Guardate loro Come la stanno affrontando Quindi Tutto quello che affrontiamo noi Non è niente Lo stanno affrontando In una maniera Di un maturo Di un adulto Mia figlia la sta affrontando In una maniera Veramente tanto matura Che io non ci credo Che una bambina Di quasi sei anni La veda così E quindi io Invito tutti Veramente A guardare i propri figli E di questo Voglio anche ringraziare L'asilo La Ramon di Manantica Che è l'asilo Della mia bambina Dove va la mia bambina Perché se così sveglia Così avanti Così Recepisce velocemente Le cose E anche merito Degli insegnanti E dei buoni maestri Che hanno avuto E non parliamo mai Degli asili E delle strutture È vero Ne parliamo poco Ed è un bellissimo Insomma Contributo Quello che tu ci porti E voglio anche Aggiungere questo Perché dici una cosa Molto importante Che tra l'altro È stata ribadita Pochi giorni fa Dall'intervento Di uno psicanalista Ma anche Di altri prima di lui Che dicevano proprio Di in qualche maniera Guardare come i bambini Fanno proprie Determinate esperienze E tu l'hai ricordato Molto bene Quindi cerchiamo Di comportarci Come fanno loro Soprattutto Conservando dei sogni Il sogno che tua figlia Ti ha proprio suggerito Insomma Te l'ha detto Che ti ha detto Mia figlia Quando sono arrivato Mi ha detto Papi Quando tutto finirà Mi porti col camper Al mare E io gli ho detto Stella ma certo E come no All'inizio Non ci ho fatto caso Perché mi ha detto Talmente tante cose Nel giro di pochissimo tempo Sai Le ho portate una bambola Insomma Tutte cose Per cui c'erano i regali Non era così importante Quello che mi stava dicendo Appena mi ha detto così Siamo andati a dormire Io poi di notte Mi sono svegliato Con questo Quando tutto finirà In testa Ho detto Cavolo Ma ha ragione Non è adesso È quando tutto finirà Bisogna parlare ai ragazzi E dire le speranze La prospettiva che sta davanti a noi Ma c'è anche qualcuno al telefono Buonasera Con chi parlo? Ciao Dolores Sono Attilio Ciao Attilio Benvenuto Simone è qui che aspetta È qui con te Ciao 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 Come va? Tutto bene? Benissimo Benissimo Tu? Tutto bene Dolores Sei sempre più bella Guarda Meno male Ma sarà molto lunga E voglio dire Che sarà Ma anche molto dura Anche farglielo capire Agli italiani Che non rispettano Certe regole Capito? Qua non c'è niente Da scherziare Io sono d'accordo con te Nel senso che io faccio Io tutto quello che mi è stato detto di fare Lo faccio Per filo e per segno Anzi guarda Io ti dirò di più Noi siamo anche una famiglia Di quelle che Si è data molto All'online Nel senso che io Me la faccio anche portare La spesa Proprio perché Una mia amica Infermiera Mi ha proprio Anche detto Che in questo momento Il covo del coronavirus Del covid-19 Perché mia figlia Se no mi sgrida Il covid-19 È tanto tanto Posizionato Nei centri commerciali Quindi Se tutti hanno Un telefonino Uno smartphone Qualcosa Dove si possono Insomma collegare Se facessero un po' Le Come dire Le spese online Insomma Per evitare tutte Queste situazioni Simone Ti posso chiedere una cosa? Veloce Attilio Abbiamo un minuto Prima dei saluti Veloce Ascolta Io sono su Instagram Se mi vai a cercare Io mi chiamo Attilio Sola Mi chiamo Va bene Mi fa piacere Vado a trovarti Vado a cercarti Ciao Attilio Ciao 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 Grazie Simone abbiamo davvero Ancora gli ultimi due minuti Forse a disposizione Prima che la regia Mi solleciti I saluti Uno Anzi Mi dicono Dalla regia E so che c'è E so che c'è una sorpresa Bellissima Voglio che tu L'anticipi Però poi Naturalmente Sarà un'occasione Per riparlarne Non so se si riesce a vedere Qua Forse un po' Nello schermo Non si vede tanto Comunque Paolo Meneguzzi È stato il primo Che l'ha Ricantata Perché sui social Quando tutto finirà È diventata Virale L'hanno rifatta Paolo Meneguzzi Max De Angelis La figlia di Ferradini Di Marco Charlotte anche lei Charlotte sì Iskra Iskra Di Lucio Dalla La corista storica Di Lucio Dalla E tantissimi all'estero Lo stanno rifacendo Tanti E quindi Allora con Pablo Io ho detto Senti Pablo Mi scrivi il testo in spagnolo Ci provo Quando l'ha scritta E me l'ha cantata Io ho detto No momento Non è che la canto da solo La cantiamo insieme E allora Lunedì Uscirà Quando tutto si termine Su tutte le piattaforme online Su Facebook Insomma Su tutte le varie piattaforme Uscirà La canzone Cantata da me Da Paolo In spagnolo E la copertina Neanche a dirlo L'ha rifatta Charlotte Ovviamente Simone Io ti devo salutare Ma Bellissima Ovviamente È una rivederci Perché con tutti Insomma Queste notizie nuove Che ci hai dato Sarà assolutamente Indispensabile Rivedersi Risentirsi Rifare un collegamento Skype Perché sono ancora Tante le cose Da condividere Magari anche con questi altri Artisti Che hai citato Volentieri Ti mando un abbraccio enorme Simo ti voglio bene Lo sai Spero di rivederti Prestissimo Anch'io Tantissimo Ciao Grazie Grazie per essere stato con noi Grazie Grazie anche a voi Tra poco c'è l'informazione Con me Ci rivediamo lunedì Grazie a tutti 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 Grazie a tutti